e ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video e allora oggi andremo a parlare di pacchi batterie e allora qualche giorno fa uno di voi mi ha contattato dicendomi ciao fox io ho acquistato un pacco batterie in un negozio un 20 am per ora il dubbio che sia di bassa qualità perché perché riesco a fare pochissimi chilometri con quello che avevo originariamente pacco batterie annesso alla bici facevo molta più strada io in prima risposta gli ho detto verifica il brand verifica l'etichettatura cioè queste verifiche che puoi fare diciamo esternamente senza smontare e in più contatta il negoziante chiedi informazioni anche a lui qualche giorno dopo mi ha ricontattato mi ha detto che il negoziante gli ha riferito che il pacco batteria è di ottima qualità montacelle panasonic è uno dei migliori pacchi batterie in effetti lo ha pagato tantissimi soldi ragazzi sopra a mio avviso sopravvalutato solo se effettivamente fosse panasonic forse 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 però io credo ho il dubbio che non sia panasonic o se sono panasonic non è realmente dalla capacità che gli hanno indicato al momento della vendita ora se anche a te è capitato questo cioè di comprare un pacco batterie di avere il dubbio io ti posso indicare qualche diciamo trucchetto per andare a capire se quel pacco batterie è realmente di buona qualità inizialmente cerca di capire se un pacco batterie assemblate in italia o se è un pacco batterie di importazione cinese e come fai vedendo le etichette leggendo se c'è ma di in italia ma di in cina e tante volte domandando anche al negoziante stesso perché se il negoziante ti dice che un pacco batteria fatto da loro e allora ti deve dare una sorta di garanzia deve avere forse un sito internet deve avere qualche foto durante la costruzione se è made in cina ragazzi e ci puoi fare niente è quello per quanto riguarda invece smontando il pacco batterie perché i pacchi batterie si possono acquistare sia quelli con la guaina termoretraibile solitamente sono di colore blu o in alternativa sono quelli con box in plastica per esempio quelle per le bici elettriche li vendono con tutto il box e chiave di accensione spegnimento o in alternativa quelle per i monopattini per esempio hanno anche una sorta di supporto di alluminio ecco tutto sta poi in base alla batteria se hai possibilità di smontare questo pacco batteria facendo tantissima però ragazzi attenzione io te lo dico così però questo passaggio lascialo come ultima chance per capire se un vero pacco batteria di qualità perché perché lo smontaggio di per sé non è pericoloso quello che è pericoloso è che se riutilizzi il taglierino perché ovviamente la guaina termoretraibile la devi tagliare in qualche modo tagliare con un taglierino a punta ben affilato però però occhio dove tagli perché se vai a fare cortocircuito se vai a tagliare qualche cavo di bilanciamento se vai a toccare qualche polo che non devi toccare vai in cortocircuito fai danni ti prende un bello spavento ti vedi le scintille che ti abbagliano e se ti va male hai distrutto anche il pacco batterie perciò mettiamo il caso che sei in gamba sei bravo ci sei fare e hai aperto la guaina termoretraibile a questo punto cosa devi fare guarda in primis le celle che celle sono punto interrogativo possono essere 18 650 21 700 boh forse anche 26 650 viste le celle deve riuscire a leggere il brand se sono celle brandizzate devono avere scritto sopra samsung lg panasonic sanio sony eccetera 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 poi se riesci un altro controllo però questo controllo lo vuoi fare solo ed esclusivamente se hai i miei fascicoli tecnici perciò vai sotto in descrizione cercane uno a caso per esempio il 7s il 6s il 5s il 10s sono dei fascicoli tecnici dove ho inserito una tabella per farti capire se quella cella che hai davanti è originale o è falsa perfetto perciò avendo smontato il pacco batterie avendo di fronte le celle che hanno per esempio una pellicola termoretraibile di colore rosso e una cartina di isolamento del polo positivo della cella singola di colore viola cosa puoi fare vai sul mio libricino leggi o meglio guarda le figure delle celle fin quando non trovi quella simile ti faccio questo esempio le rosse solitamente sono sanio le rosa può essere una samsung azzurra può essere samsung o anche lg per esempio mh1 sono le lg da 3002 per dirti che con quel libricino ti aiuterai a capire se quella è una cella originale o non è originale se non ha nessun brand stampigliato addosso ragazzi al 99 per cento sono celle cinesi celle cinesi che possono essere buone possono essere discrete o possono essere piene di sabbia io la certezza su questo così non ve la posso dare se poi volete nello specifico non vi basta questo controllo volete fare un controllo in più io vi posso dire di smontare tutto il pacco batterie cioè levare tutta la strip saldante però occhio questo è un passaggio ancora più pericoloso ancora più dangeloso e andare a testare cella per cella però ragazzi questo passaggio vuol dire che hai distrutto il pacco batterie non funzionerà più però nello stesso tempo potrai andare a vedere quante celle di quelle che hai funzionano per esempio o la reale capacità che hanno cella per cella poi se sei bravo rimonti il pacco batterie lo puoi rimontare grazie anche ai miei fascicoli tecnici lo puoi rimontare se ti iscrivi come studente al mio corso batteri maker che è l'unico corso nazionale sulla customizzazione costruzione e riparazione di pacchi batterie al litio oppure a breve brevissimo arriverà anche il power wall maker è un nuovo corso dedicato a tutti coloro che vogliono andare realizzare gruppi di accumulo per andare a diciamo stoccare energia proveniente da fonti rinnovabili fotovoltaico energia eolica eccetera eccetera comunque energie alternative stoccarle dentro grandi gruppi di accumulo questi gruppi di accumulo volendo ragazzi li possiamo fare anche noi a casa nostra il nostro laboratorio il nostro magazzino nel nostro garage io per esempio ne ho fatto uno parecchi anni fa che tutt'oggi funziona e funziona una meraviglia ragazzi niente per questo video è tutto se avete domande scrivetele sotto contattatemi in email per assistenza consulenze in descrizione trovi tutti i link ai corsi tutti i link ai fascicoli tecnici un abbraccio ciao e al prossimo video ciao 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 ciao